Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est sono possibili disagi in entrambe le direzioni. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. Possibili disagi per un incidente avvenuto tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Mare. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. In direzione Roma, per lo stesso motivo, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico-La Quercia e Badia. Siamo sul versante Emiliano. Infine il traghetto da Piombino a Portoferraio via Cavo delle 12.20 è stato annullato per maltempo. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!